Continuiamo lo studio dei circuiti in regime sinusoidale, riprendendo da dove abbiamo lasciato dal video precedente. Facciamo un po' di spazio e iniziamo a ragionare sulle tensioni e sulle correnti. Prendiamo ad esempio la tensione del generatore. Abbiamo detto che si tratta di una tensione di tipo sinusoidale, quindi un'onda che nel tempo sarà rappresentata dalla generica funzione sinusoidale del tipo A seno di ωt più φ, in questo caso la fase della tensione Vg. Abbiamo la solita rappresentazione, riconosciamo gli elementi, da questa noi possiamo passare al fasore che rappresenta la tensione sinusoidale, quindi il fasore Vg e questo sarà caratterizzato dal suo modulo che in questo caso sarà il valore efficace della tensione e quindi A che è l'ampiezza della tensione dell'onda sinusoidale, il modulo del fasore corrispondente è il valore efficace della tensione e quindi A diviso radice di 2. E altra caratteristica del fasore è la sua fase ΦVg che è esattamente la stessa che compare nell'espressione nel tempo. Passiamo sempre attenzione alla fase se è rappresentata in angoli stessagesimali o in radianti. L'altra caratteristica della sinusoide nel tempo che nel fasore non è più evidente è la pulsazione che sappiamo legata alla frequenza dalla relazione 2πf. La pulsazione non è più presente nel fasore ma noi sappiamo che tutte le grandezze elettriche, tensioni e correnti nel nostro circuito saranno di tipo isofrequenziale, quindi alla stessa frequenza ed è per questo motivo che anche se nei fasori che noi utilizziamo nelle soluzioni la frequenza non è più presente o la pulsazione che è lo stesso non è più presente in forma esplicita, noi però sappiamo che tutti i fasori rappresenteranno delle grandezze isofrequenziali. Quindi se conosco la frequenza delle alimentazioni o della singola alimentazione come in questo caso saprò e so che tutte le altre grandezze sono isofrequenziali con essa. Mettiamo in evidenza anche questo concetto e lo riponiamo tra le cose importanti. Adesso liberiamo un po' di spazio sulla nostra lavagna per poter continuare ad approfondire il discorso sui nostri circuiti in regime sinusoidale. Vi ricordo nel frattempo che tutti gli altri componenti presenti nel circuito affinché il regime sinusoidale sia vero devono essere di tipo passivo, lineare, resistori, induttori e condensatori. Continuiamo adesso il nostro ragionamento. Il fasore della tensione quindi lo potremmo esprimere con il numero complesso parte reale più J parte immaginaria, quindi generico A più J B. Ovviamente lo possiamo anche esprimere nell'altra forma, quindi sotto forma di modulo e fase. Quindi il modulo che abbiamo detto essere uguale al valore efficace della tensione di ampiezza A, quindi A fratto radici di 2, è fase FI VG. Quindi questo abbiamo detto che A fratto radici di 2, è il valore efficace, la fase FI VG. E a questo punto ci liberiamo della rappresentazione del valore efficace come A fratto radici di 2. ce ne liberiamo nel senso che cerchiamo una rappresentazione, un nome, gli diamo un nome più facile da utilizzare, ricordandoci comunque che è il valore efficace, quindi legato all'ampiezza. E gli diamo un valore più comodo da ricordare, da utilizzare come un semplice VG in questo caso, che rappresenta il modulo del nostro fasore, e la fase FI VG. Ovviamente il modulo VG è legato al valore efficace dalla relazione valida per tutte le grandezze elettriche di tipo FI VG. di tipo sinusoidale. Recuperiamo un altro po' di spazio sulla nostra lavagna. Ragioniamo adesso sul numero complesso che rappresenta il nostro fasore. Quindi sappiamo il legame che esiste fra parte reale e parte immaginaria con il modulo e con la fase. Ricordiamolo, la parte reale A del numero complesso è uguale al modulo VG per il coseno della fase FI VG. La parte immaginaria B del numero complesso sarà sempre uguale al modulo VG, questa volta per il seno della fase FI VG. Quindi con queste relazioni noi siamo in grado di trovare parte reale e parte immaginaria partendo dalla conoscenza di modulo e fase del fasore. Ovviamente dobbiamo saper fare anche le trasformazioni opposte e quindi essere in grado di calcolare il modulo se conosciamo parte reale e parte immaginaria. Sappiamo che lo ricaviamo dalla radice quadrata del quadrato della parte immaginaria più il quadrato della parte reale, quindi radice quadrata di A quadro più B quadro. E la fase come arco tangente, quindi tangente alla meno 1 per semplicità, di parte immaginaria diviso parte reale B fratto A. Queste due formule di trasformazione ci consentono di passare dalla rappresentazione del fasore come parte reale e parte immaginaria a quella modulo e fase e viceversa. Quindi sono le due formule di trasformazione che dobbiamo sempre tenere a mente ed essere in grado di utilizzare a seconda delle convenienze che abbiamo nella soluzione. Scriviamoci quindi un appunto che ci ricorda l'importanza di queste trasformazioni. Ovviamente sono trasformazioni che modificano soltanto la rappresentazione del nostro fasore, ma sono ovviamente equivalenti fra di loro. Quando utilizziamo la prima forma, parte reale e parte immaginaria, questa di solito viene chiamata la forma algebrica del fasore. Quindi il fasore espresso in parte reale e parte immaginaria si dice che è rappresentato in forma algebrica. La rappresentazione in modulo e fase invece di solito viene chiamata come forma polare. Ricordiamo ancora che si tratta di due rappresentazioni ovviamente equivalenti. Allarghiamo la nostra lavagna e andiamo a rappresentare sul piano di Gauss il nostro fasore nelle sue due forme, nella forma algebrica e nella forma polare. Piano di Gauss, quindi assi cartesiani, in ascisse, in numeri reali, in ordinati, in numeri immaginari. Piano di Gauss, quindi nella forma algebrica il fasore lo rappresentiamo con la sua parte reale, richiamo la generica A in questo caso e con la parte immaginaria la generica B. Se troviamo il punto con le due coordinate A e B, questa sarà la rappresentazione del nostro fasore VG, espresso appunto nella sua forma algebrica A più J e B. Forma algebrica. Rappresentiamo lo stesso fasore sul piano di Gauss, ma nella sua forma polare, assi reale e immaginario. Nella forma polare noi abbiamo il fasore rappresentato da un vettore, quindi un segmento di lunghezza uguale al modulo VG avente angolo rispetto alle ascisse pari proprio alla fase ΦVG. Ovviamente, dunque abbiamo detto che questa la chiamiamo la rappresentazione in forma polare. ovviamente queste due rappresentazioni sono equivalenti, quindi se io proietto il vettore rappresentativo del fasore in forma polare e ne trovo le coordinate, ritrovo esattamente la parte reale A e la parte immaginaria B. stessa cosa se io vado a unire l'origine degli assi del piano di Gauss con il punto rappresentativo del fasore parte reale e parte immaginaria, ritrovo il vettore e la fase ΦVG. Quindi vedete che le due forme sono equivalenti. equivalenti.